Questa domenica si daranno convegno a Milano gli alpini provenienti da tutte le parti del mondo. Perché Milano? Perché cent'anni fa, l'8 luglio esattamente del 1919, nasceva l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, l'associazione d'arma di militari in congedo più grande al mondo e, stando agli opinionisti, forse l'associazione più amata al mondo. Sapete, gli alpini erano nati 147 anni fa, nel 1872, quando, dopo l'unificazione dell'Italia, si era visto che il pericolo veniva da nord, veniva da, oltre le Alpi, le possibili aggressioni al paese. E allora si sentì il bisogno di mettere in piedi un corpo militare di gente che era presa dalla montagna, che conosceva la montagna, che sapeva andare in montagna. Allora non c'erano ancora le moderne tecnologie, si cominciò ad usare i muli e si cominciò ad andare in montagna con quella che era l'abilità dei montanari. La prima azione nella quale furono impiegati gli alpini però non fu per niente la montagna, perché dall'11 al 13 del secolo scorso gli alpini furono mandati in Libia, c'era bisogno di cacciare i turchi, gli alpinici riuscirono e si dimostrarono valorosi pur non essendo nell'ambiente loro congeniale, ma questa volta nelle dune del deserto, che comunque simulano nel loro piccolo qualche montagnola, ma non erano le montagne da cui venivano. A mettere il muso sulla realtà sarebbe stata di lì a qualche anno la prima guerra mondiale, che vide un'ecatombe di alpini. Si pensi, solo per fare dei nomi, tutte le montagne dell'Adamello, dell'Ortles, si pensi all'Ortigara, l'Ortigara che è diventata in qualche maniera una tomba di alpini. Pensate che gli alpini venivano mandati all'assalto a conquistare questa montagna e venivano mandati con un'estrema incoscienza, proprio di fronte alle truppe tedesche che man mano che salivano, sparavano contro e li uccidevano. Si dice che l'Ortigara, dopo la fine della guerra, con tutto il bombardamento e le armi che erano state usate per colpire gli italiani, fosse diminuita di otto metri nella sua vetta. Sta di fatto che l'Ortigara segnò un'ecatombe, si parla di dieci e mila più alpini caduti in pochissimi giorni. Poi con altri militari, c'è fu la Caporetto nel 17, insomma tante giornate nere che ricordano quanti alpini siano morti. Fu un momento certamente drammatico per gli alpini, fu un momento difficilissimo, gli alpini venivano un po' da tutte le montagne d'Italia, da quelle della Calabria, da quelle dell'Abruzzo, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, parlavano dialetti diversi, non conoscevano la lingua italiana. Pensate che durante la prima guerra mondiale si imparò a capirsi tra italiani e soprattutto molti di loro impararono i rudimenti dell'istruzione perché cominciarono a scrivere a casa. Pensate che dal fronte furono mandati a casa 2 miliardi e 600 milioni tra lettere, cartoline postali, cartoline e quant'altro. 2 miliardi e 600 milioni. a fronte del miliardo e 400 milioni di lettere che arrivavano da casa. Si dice qualche volta che gli alpini siano uomini della guerra. Beh, gli alpini non hanno mai voluto la guerra. Io dico sempre che gli alpini furono degli obbedienti. Furono degli obbedienti. Sapete bene che quando qualcuno diceva che non voleva andare alla guerra o quando qualcuno scappava dal fronte, questo veniva fucilato immediatamente, mandato davanti al protone di esecuzione e fucilato immediatamente. Gli alpini non hanno mai voluto la guerra, mai, mai. Però purtroppo di lì a qualche anno dopo la prima guerra mondiale sarebbe arrivata la seconda e gli alpini furono impiegati prima nel fronte greco-albanese, dove lasciarono lì tantissimi morti, e poi nella terribile campagna di Russia una follia. Si dice che Mussolini abbia detto che la Crimea valeva bene la Iulia, cioè la conquista della Crimea si poteva benissimo per questa conquista accettare la morte di un'intera brigata che era la Iulia. E così è stato. Di lì a qualche anno avrebbero scritto 100.000 gavette di ghiaccio. Io sono stato a Roshosh, dove c'era il comando delle nostre truppe alpine, a Nikolaevka, e ho parlato con le signore anziane che hanno visto la ritirata di questi alpini mal addestrati, con pochissime strumentazioni per difendersi dal gelo. Quell'anno, il 43, c'erano 40 gradi sotto zero, pensate, e le donne ci dicevano alpinski buone, le han detto a me, gli alpini erano buoni, in russo li chiamano alpinski, e dice loro entravano nelle nostre case a chiederci una patata, le bucce delle patate, ma non ci uccidevano come facevano i militari di altre nazioni. Gli alpini venivano e chiedevano e si vedeva che erano cresciuti in famiglie povere e umili ed avevano queste caratteristiche di disponibilità. Sta di fatto che Nikolaevka diventò proprio una grande tomba che è diventata anche una metafora come Caporetto, Nikolaevka e Caporetto sono un simbolo di morte per dire lì quanti sono caduti. Sapete che l'ana, dicevo, è nata nel 1919 perché quelli che erano tornati dalla guerra si erano detti, non possiamo dimenticare, ed erano saliti per la prima volta, facendo la loro prima adunata sul monte Ortigara. Andarono lassù dove c'erano ancora i corpi in disfacimento dei loro compagni, si trovavano ancora le ossa degli scheletri interi, abbandonati là sotto le stelle. Dissero non dobbiamo dimenticare e proprio lassù sull'Ortigara ha messo una colonna mozza dove c'è scritto per non dimenticare. Ma poi c'era un secondo obiettivo che sta dietro la nascita dell'ana, quel non dimenticare voleva dire per quali valori si sono battuti questi fratelli, per quale Italia, e qua sarebbe interessantissimo analizzare quegli anni terribili del dopo prima guerra mondiale con di fatto una guerra civile nel paese, e questi alpini che hanno detto ma questi qua sono morti per niente i nostri compagni, quali sono i valori ideali sui quali noi dobbiamo impegnarci per portare avanti la causa che loro hanno pagato con la vita. Questa era la seconda motivo per non dimenticare. Il terzo motivo per non dimenticare era quello di domandarsi ma quando è che scoppia una guerra? Perché scoppia una guerra? E ce lo dobbiamo chiedere anche oggi. La prima guerra mondiale nacque dai nazionalismi che stavano diventando sempre più aggressivi. C'era la Germania che ce l'aveva con la Francia per l'occupazione del territorio europeo, c'era la Germania che ce l'aveva con l'Inghilterra per il predominio sui mari e soprattutto per l'estensione delle colonie, perché allora si misurava la potenza di uno Stato con la misura delle colonie e a fonte di 300 milioni di chilometri delle colonie inglesi, c'erano i 300 mila della Germania, c'era l'impero austro-ungarico contro la Russia, la Russia che voleva il predominio sui paesi slavi, così lo impero austro-ungarico, la Russia che voleva l'accesso al Mediterraneo attraverso i vari stretti che c'erano dopo il Mar Nero e il Mar Caspio. Insomma, voglio dire, è l'Italia che voleva un predominio nei Balcani, l'Istria e giù fino alla Grecia. Quindi questi nazionalismi per cui ognuno diceva io voglio essere più forte di te, domandiamoci oggi per cosa vuol dire far rinascere i nazionalismi a livello europeo. Questo antagonismo, questa ricerca per cui io ce l'ho con la Germania, io ce l'ho con la Francia, io ce l'ho con l'Austria, io ce l'ho con l'Inghilterra, sta rinascendo questo, dobbiamo interrogarci su questo. Gli alpini sono dei seminatori di pace e la prova è che, vi dico solo un dato, lo scorso 2018 gli alpini hanno dato all'Italia in denaro e in ore lavorative l'equivalente di 79 milioni di euro. Pensate cosa hanno dato nel silenzio all'Italia. E con la protezione civile, che conta oggi 15 mila persone circa, sempre disponibili giorno e notte, noi siamo un fiore all'occhiello per il paese. Non c'è campanile, non c'è paese, non c'è città dove gli alpini non lasciano il segno. Perfino in Sardegna, in Sicilia, nel sud, ovunque. E poi gli alpini sono sparsi in tutto il mondo. Vorrei chiudere dicendo, quali nemici hanno gli alpini oggi? Ne segnalo due, nemici si fa per dire tra virgolette ovviamente. Il primo è la burocrazia. Gli alpini in questo momento sono impegnati con alcune opere fondamentali nella ricostruzione del centro Italia colpito dal terremoto. Voi non ci crederete, ma noi non riusciamo ad andare avanti con i soldi pronti lì per essere impiegati, perché la burocrazia ci ferma continuamente. Sembra che ci sia un paese, quello istituzionale della burocrazia, che non vuole il bene del paese. La seconda tristezza ci viene qualche volta da alcuni preti all'interno della Chiesa. Per esempio, ho sentito che la diocesi di Vicenza ha posto il divieto di mettere il cappello d'alpino sulla bara degli alpini che muoiono, che vanno avanti, come si dice. Beh, io dico, ma perché nasconderebbe la croce? Ma che testa hanno gli alpini, davvero un cappello che nasconde tutta una bara? Mi sembrano davvero delle cose pretestuose. In realtà c'è qualche preti un po' ideologizzato che ha paura che gli alpini siano uomini di guerra. Siamo tutti vecchiotti ormai, che ci mancherebbe altro? E non siamo certo uomini di guerra. E io credo che quando nel nome del Vangelo si vuole fare dell'ostruzione agli alpini, lì non si serve il Vangelo, si semina soltanto divisione. E questa non è il Vangelo.